Due settimane dopo il voto in Sardegna, anche i cittadini dell'Abruzzo sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della regione e la relativa composizione del Consiglio regionale. In totale ci sono da eleggere 31 consiglieri, due di essi sono il candidato presidente eletto e quello arrivato secondo, gli altri 29, in base alle preferenze espresse. Si vota nella giornata di domenica 10 marzo, dalle 7 alle 23. I seggi saranno aperti in tutte le quattro circoscrizioni che corrispondono alle quattro province locali, L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Lo spoglio delle schede comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, tanto che già a notte inoltrata si potrebbe avere un quadro abbastanza definito dell'esito del voto che non prevede un ballottaggio, chi vincerà al primo turno sarà il nuovo presidente. Il meccanismo di voto abruzzese è piuttosto semplice, non prevede il cosiddetto voto disgiunto, quello che in una certa misura ha finito per decidere la tornata elettorale sarda. Nell'urna gli elettori potranno esprimere al massimo due preferenze per i consiglieri regionali, a patto che non siano dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Potranno farlo solo se questi due candidati consiglieri sono diretta espressione di una lista a sostegno di un candidato presidente, altrimenti se si vorrà votare soltanto un candidato alla presidenza si potrà farlo barrando il simbolo della coalizione senza esprimere alcuna preferenza per i consiglieri. In alcun modo però si potrà votare per un candidato presidente per consiglieri appartenenti a una lista che non è a esso collegata. La legge elettorale abruzzese prevede un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato presidente che risulterà vincitore, tale da consentire loro di avere il 60% dei seggi in consiglio regionale. Resteranno fuori dal consiglio le liste che avranno riportato percentuali inferiori al 2% se fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 4%, mentre se vanno da sole la soia sarà appunto al 4%. I vertici di centrodestra e centrosinistra si sono spesi in prima persona per tirare la campagna elettorale e rispettivi candidati. La tornata elettorale abruzzese presenta due candidati alla presidenza. Marco Marsilio, 56 anni, è quello appoggiato dai partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ai quali si aggiungono l'Unione di Centro e la lista civica Marsilio Presidente. Marsilio è il presidente uscente della regione eletto nel 2019 e passato alla storia come il primo governatore ed Abruzzo, espressione di Fratelli d'Italia, il partito di riferimento. Dal 2008 al 2012 è stato deputato per il Popolo della Libertà, dal 2018 al 2019 senatore con Fratelli d'Italia che in Abruzzo ha una piccola roccaforte. Nel 2022 nelle elezioni governative raggiunse il 27%. Lo sfidante è Luciano D'Amico, 64 anni, in passato rettore dell'Università di Teramo, sostenuto da un'ampia coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, oltre che dalle liste civiche Abruzzo insieme d'Amico Presidente, riformisti e civici che comprende al suo interno una buona rappresentanza di Italia Viva e Abruzzo Vivo.